23 novembre 1936, negli Stati Uniti d'America esce il primo numero della rivista Life. Antesegnana dei settimanali basati sul fotogiornalismo è fondata da Henry Robinson Luce, il quale raccomanda ai suoi redattori di seguire una sola regola per raccontare la vita. Osservare il volto dei poveri e i gesti dei potenti.